Amici, 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 sono terminati in questo momento i funerali del DJ Claudio Cocconuto. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, amici, 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 con questo lungo applauso c'è stato l'ultimo saluto a un grande della musica italiana, del mondo della notte soprattutto, il grande Claudio Cocconuto.